Omaggio a Carlo Ludovico Bragaglia è il titolo della mostra fotografica in corso in questi giorni a Palazzo Braschi di Roma. L'esposizione rappresenta un omaggio fatto dalla città al grande regista cinematografico che con i suoi cento anni di vita rappresenta una viva testimonianza di un secolo vissuto in prima persona nel mondo del grande schermo e della fotografia. Nella mostra sono esposte per la prima volta le cosiddette fotodinamiche, straordinaria realizzazione di chiara ispirazione futurista fatta dal regista Frusinate nei primi anni del nostro secolo. Nelle altre sezioni della mostra sono esposte poi fotografie delle dive del cinema muto italiano che egli ha in gran parte fotografato, fotografie di scena sui film di Ettore Petrolini, un'ultima sezione e poi quella dei ritratti che la fotografa Rita Cariotti ha eseguito nella casa del regista al quartiere Parioli. La mostra a omaggio a Carlo Ludovico Bragaglia resterà aperta al pubblico a Palazzo Braschi di Roma in piazza San Pantaleo fino al 7 dicembre.